Ciao, mi chiamo Riccardo Feola e sogno un attore di 44 anni, napoletano, vivo a Roma. Mi sogno formato a Napoli all'Accademia d'Arte Drammatica del Teatro Bellini. Contemporaneamente ho frequentato laboratori, seminari al Teatro Nuovo. È un teatro di ricerca, che è un tipo di teatro che più mi piace a gusto mio. Successivamente mi sogno trasferito a Roma e oramai sogno qui da 20 anni. Mi piace molto vivere a Roma, è una bella città e ci sono tantissime opportunità di lavoro per chi come me cerca di entrare nel lavoro nel cinema e nella televisione. Attualmente ho fatto qualche apparizione in tv, le ultime sono i Bastardi di Pizzo Falcone e Mina Settembre. Mi piace leggere, mi piace fare sport, correre, la bicicletta, sport di montagna, sport acquatici. Ultimamente ho cominciato a fare yoga. Vi faccio vedere i miei profili, profilo destro e profilo sinistro. Ciao!